Avevano sfidato il mare e ora si rischia la tragedia e è accaduto nella riviera di Ponente a Milazzo nella tarda mattinata di oggi. Uno dei ragazzi era riuscito a sottrarsi alla furia del mare e alla violenza delle onde. L'altro aveva trovato una boa a cui aggrapparsi e lì era rimasto per circa un'ora in balia dei Marosi, riuscendo a salvarsi soltanto dopo approfittando di un momento favorevole. Il giovane è stato trasportato all'ospedale di Milazzo, possibile una ipotermia? Risulta ancora disperso il sottoufficiale della Guardia Costiera che aveva tentato il soccorso. Avviate anche le ricerche a mezzo elicottero, si riducono sempre più le speranze di trovarlo in vita. Presenti sul posto anche i vigili del fuoco.